La sindaca di Battivaglia Cecilia Francese rassicura sulla situazione di una trentina di persone che sono state messe in quarantena al ritorno da un viaggio in Veneto. In un posto sulla sua pagina Facebook mette in evidenza che stanno monitorando la situazione nelle strutture sanitarie per i cittadini che hanno effettuato spostamenti da e per le zone rosse colpite dal coronavirus. In relazione al pullman rientrato da Viareggio e da Venezia la sindaca tranquillizza la popolazione spiegando che non solo non ci sono sintomi né manifestazioni del virus né viaggiatori ma che a seguito delle circolari messe dal Ministero della Salute osserveranno a scopo precazionale una quarantena di 15 giorni. Il sindaco di Battivaglia invita tutti i cittadini ad attenersi alle comunicazioni ufficiali del Ministero della Salute e della Regione Campania al fine di scongiurare allarmismi e informazioni parziali.